Borraccia US 1910, doppio automatico apribile in metallo, fodera in canvas, cotone, stampigliatura, tappo in plastica, catenella metallica, interamente corpo in alluminio, gavettino, gavettino ha un manico che si fissa in questa maniera, prima si gira, poi si abbatte la levetta e rimane saldamente ancorata. Operazione inversa per chiuderlo, aggancio per cinturone con fori, l'interno imbottito in lana, chiusura a pressione degli automatici. Grazie.